Un saluto a tutti qui d'Ago Pippo, questo è il primo anno dal mio trapianto di capelli. Chi mi segue sa benissimo come sono andate i vari step, dalla crescita più piccola, dall'infortimento, dalla caduta, un po' un macello, però adesso vi volevo far vedere che cosa utilizzo io per poter mantenere i capelli. Mi raccomando, accendete la campanella e iscrivetevi al canale, è molto importante per dargli una mano per la crescita di questo canale. L'ho visto perché io vedo che voi guardate i miei video ma non siete iscritti, quindi non costa nulla, semplicemente aiutate me nella crescita di questo canale in modo da poter portare più contenuti. Perché attualmente lo sto facendo quasi gratis, dico quasi, perché poi un giorno lo spiegherò. Perché bene sì, perché comunque c'è bisogno sempre di una protezione, diciamo di una cura per i nostri capelli. E io volevo farvi vedere quello che utilizzo. Infatti adesso sono andato a lavare i capelli con un prodotto. Un prodotto che ancora utilizzo, sarebbero gli shampoo che ho ancora in dotazione dalla clinica. Perché ne ho presi un pochettino di più e mi stanno ancora durando. Ne ho ancora due o tre bottiglie di queste. Praticamente queste qua sono fatte così. DLA clinica, shampoo, anti high loss, via dicendo, col pH, roba assolutamente naturale. Qui dentro, qui dentro lo shampoo, ci andiamo a mettere questa bottiglina qui. Che questa bottiglina qui, adesso non si vede però, contiene molte molte vitamine e un aiutante per il nostro capello. Quindi questo lo vado a mettere direttamente dentro lo shampoo, così che poi mi vado a lavare. Quindi dopo aver lavato, cosa faccio? Asciugo con il phon, come avete visto nel video. E cosa faccio dopo? Anche perché comunque il mio capello, essendo riccio, risulta anche così alla vista un po', un po' sul crespo. Ma è comunque un capello riccio, sembra crespo ma non lo è perché sono assolutamente morbidi e sono molto naturali. Devo dire che adesso, dopo un anno, sono molto naturali come potete vedere. Diciamo che sono anche molto forti rispetto a come era un tempo. Adesso vi voglio far vedere cosa applico dopo il lavaggio. Io applico questa cosa qui, lozione per i capelli, Kerios. È un rinforzante, praticamente sarebbe tipo un olio, ve lo faccio vedere subito. Ah, mi raccomando, se vi interessano questi prodotti, io vi lascio qui sotto in descrizione. Tutto quello, anzi qui sotto, qui sotto in descrizione, se voi cliccate la freccetta che va giù, c'è il link su Amazon per acquistare questi prodotti. Quindi basta che voi cliccate e potete vederlo voi stessi, recensioni e robe varie. Questa roba qui, ve lo dico subito, ve lo faccio vedere, anzi qui in sovrimpressione, 5 stelle pieno. Insomma, non c'è nessuno che abbia detto questo prodotto non è valido. Io non lo sponsorizzo perché comunque non mi hanno pagato per sponsorizzare questo prodotto, però io, essendo che lo utilizzo e devo dire che è molto valido, ve lo volevo far vedere. Praticamente questo qui come funziona? Ha una pipetta che adesso ve lo apro, lo uso a destra, ve la apro, ha una pipetta che voi prelevate un po' di succo, di nettare e ve lo spargete nei capelli. Ma io ve lo faccio vedere. Ma questo qui in realtà si può usare così come lo vedete. sui capelli, lui nelle istruzioni dice un 14 gocce, però io cosa faccio? Eccolo qua. Questo qui lo utilizzo per fare in modo che questo prodotto entri molto di più nel cuoio capelluto. Quindi come funziona questo aggeggino qua? Praticamente è un rullino dotato, vediamo se ve lo faccio vedere così, se lo vede, ecco, si vede un pochettino, ha delle microaghi che si vanno a penetrare nel cuoio capelluto e cosa succede? Penetra molto più efficacemente la sostanza. Quindi utilizzando questo potrete andare a densificare molto di più tutta la parte da voi interessata, compresi capelli, barba, peli, dove voi volete. Quindi utilizziamo questo, vi faccio vedere subito. Allora, praticamente prendiamo questo, aprite un po' la parte, perché qua comunque mi è stato trappiantato, quindi passate così leggermente, senza premere, perché tanto non c'è bisogno che voi premiate, e andate a fare una versione così, diciamo, in verticale di tutta la parte desiderata. Volendo anche di qui, anche in orizzontale, passate così, ok, e anche nella parte dietro, così che andiamo a prendere anche qua dietro. Passate molto delicatamente, sennò poi comunque sempre non dobbiamo andare a irritare la zona, quindi fate così, passate piano piano, in questo modo, ok? Io adesso tanto ve lo faccio vedere, adesso me lo passo anche qui, tanto così infortiamo anche questa parte qui di barba, anche perché nel 2023 è stato l'anno del trappianto di capelli, l'anno 2024 mi è cresciuto pure sotto. Questo l'ho trovato sempre su Amazon, questo rullino, è fatto apposta per capelli, rughe e barba, quindi potrebbe essere molto interessante utilizzarlo, quindi facciamo così, anche di sotto, un po' una passata così, e poi l'importante è igienizzarlo, prima di usarlo, ovviamente. prendiamo la nostra pipetta e facciamo così, prendiamo un po', allora nelle istruzioni dice 14 gocce, io comunque non mi basta, non può, ne metto un pochettino di più, e faccio una roba del genere, lo faccio colare, così, poi do una massaggiata, in questo modo, lo faccio penetrare, lo metto anche da questo lato, un pochettino, ve lo faccio vedere, facendo un po', andavano anche nelle sopraccigli, quindi, lo faccio andare un po' così, e un po' anche dietro, e poi, lo verso, verso anche così, come potete vedere, e, lo vado, a mettere anche qui, così, tanto, sono passato anche qui, il piccolo lino, e lo messo anche così, qua andiamo un pochettino, a massaggiare, in questa maniera, così, senza troppo sfregare, io adesso, sembra che, vado fuori, vado molto pesante, ma invece, sono leggero, un attacco, quindi, qua, basta semplicemente, fare in questa maniera, e poi, se volete, modellare i capelli, come, come vi piace, per il momento, lascio così, tanto, non devo andare, da nessuna parte, se voi volete utilizzare, un prodotto, per modellare i capelli, dipende ovviamente, sempre, dal, dal capello che voi avete, le esive, ve lo faccio vedere qua, facciamo così, ok, praticamente, è per i ricci, questo qua, vi gestirà, i vostri ricci, se voi avete i capelli lisci, utilizzate le cere, no gel, io non uso gel, perché il gel, non è un qualcosa di naturale, è sempre un qualcosa di, di chimico, quindi, no, insieme a questo, insieme a questo prodotto, della Kerios, vi danno, anche all'interno, una cera, no, scusate, una maschera, per i capelli, quindi, questo lo utilizzo, un giorno sì, e un giorno no, quindi, una volta sì, una volta no, e questo qui, lo utilizzi, lo si utilizza, una volta a settimana, quindi, una volta a settimana, fate anche questa qui, una maschera per i capelli, rinforzante, è fatto con, mela, annulca e rosmarino, quindi, sono proprietà che comunque, vanno a stimolare, la crescita del capello, quindi, questo è quello che utilizzo, se voi, utilizzate altri prodotti, fatemelo sapere, nei commenti, e mi raccomando, datemi un supporto, perché nel 2024, dobbiamo esplodere, e fare, non esplodere, in senso letterale, ma fare esplodere il canale, perché solo voi, potete, aiutarmi, tirare sul canale, in modo da poter, portare dei contenuti, migliori, anche divertenti, anche perché, nei prossimi video, andremo a fare dei giochini, che coinvolgeranno, tutta la comunità, del mio canale, se volete sapere, di cosa sto parlando, accendete la campanella, che trovate qui sotto, così, riceverete la notifica, che è uscito il mio video, quindi, ovviamente, bisogna iscriversi, è gratis, non costa nulla, e aiuterete me, nella realizzazione, di più contenuti, quindi, ci vediamo, in questo video, rimanete, e insieme a tutti i dati, e insieme a tutti, Ciao